Cleopatra VII, la regina che ha sfidato Roma. Cleopatra VII Philopator, nata tra il 69 e il 68 anno corrente e morta il 12 agosto del 30 anno corrente, è stata l'ultima regina dell'Egitto tolemaico. È una delle figure storiche più famose e affascinanti di tutti i tempi, ed è stata oggetto di numerose opere d'arte, letteratura e cinema. Cleopatra era figlia del faraone Tolomeo XII Aulete e di una donna sconosciuta. Alla morte del padre, nel 51 anno corrente, salì al trono insieme al fratello minore, Tolomeo XIII. I due fratelli iniziarono presto a litigare, e la situazione degenerò in una guerra civile. Nel 48 anno corrente, Cleopatra si recò a Roma per cercare l'aiuto di Giulio Cesare, che era in quel momento il leader politico più potente del mondo romano. Cesare, affascinato dalla bellezza e dall'intelligenza di Cleopatra, le diede il suo sostegno, e lei lo aiutò a sconfiggere Tolomeo XIII nella battaglia di Farsalo. Cleopatra e Cesare ebbero un figlio, che fu chiamato Cesarione. Dopo l'assassinio di Cesare nel 44 anno corrente, Cleopatra tornò in Egitto e iniziò a governare da sola. Nel 41 anno corrente, Cleopatra incontrò Marco Antonio, uno dei generali di Cesare. I due si innamorarono e iniziarono una relazione. Cleopatra diede a Marco Antonio tre figli, Tolomeo XV Cesarione, Alessandro Elio e Cleopatra Selene II. La relazione tra Cleopatra e Marco Antonio fu vista come una minaccia da parte di Roma. Nel 31 anno corrente, l'imperatore Augusto sconfisse Marco Antonio nella battaglia di Azio. Cleopatra e Marco Antonio si ritirarono in Egitto, dove si suicidarono insieme nel 30 anno corrente Cleopatra come regina. Cleopatra era una governante abile e intelligente. Era un'esperta di politica e diplomazia, e sapeva come usare la sua bellezza e il suo fascino per ottenere ciò che voleva. Durante il suo regno, Cleopatra riuscì a mantenere l'indipendenza dell'Egitto da Roma. Inoltre, promosse lo sviluppo culturale ed economico del paese. Cleopatra come donna. Cleopatra è spesso vista come una donna fatale, che usò la sua bellezza per sedurre potenti uomini. Tuttavia, è importante ricordare che Cleopatra era anche una donna di grande intelligenza e ambizione. Era una donna colta, che parlava diverse lingue e si interessava di politica e filosofia. Inoltre, era una madre devota, che si prese cura dei suoi figli con amore. Cleopatra nella cultura popolare. Cleopatra è una figura che ha affascinato artisti, scrittori e registi per secoli. È stata protagonista di numerose opere d'arte, letteratura e cinema. Alcune delle rappresentazioni più famose di Cleopatra includono il dipinto Cleopatra di John William Waterhouse, 1888, la tragedia Cleopatra di William Shakespeare, 1606, il film Cleopatra di Joseph L. Mankiewicz, 1963. Cleopatra è una figura complessa e affascinante, che continua a ispirare e affascinare il pubblico di tutto il mondo. Grazie. 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 Grazie.